Per i piloti un'azione fondamentale in pista è la staccata. Parliamo di freni e di quanto è importante, partendo dai lubrificanti, in questo caso più che lubrificanti, l'olio che si utilizza. Diciamo che l'olio dei freni è molto molto importante. Lo sbaglio che si fa delle volte non dargli importanza, ma forse è più importante quello che metterci a cambiare pompe, pinze e tutte quelle soluzioni lì. Tra l'altro vedo che voi avete l'impianto di serie della Yamaha R6. Sì, noi abbiamo l'impianto di serie con il nostro olio Bardal che usiamo nell'impianto frenante, specialmente in Thailand che si raggiungono delle temperature altissime nei freni. Non abbiamo avuto problemi, il pilota non ha lamentato spugnosità nella pompa, frenata sempre costante e quindi molta tanto. Infatti volevo chiederti quando hai un...